Siamo alla vigilia di un'altra partita di campionato, il Tavaniaco sfida il Cuneo. Com'è andata questa settimana di allenamento? Ma è andata bene, ci siamo allenate bene tutta la settimana, quindi aspettiamo questa partita e poi vediamo nel proseguo come andrà. Questa sarà sicuramente una partita come tutte le altre, difficili, però noi ci crediamo. Ha chiesto qualcosa di particolare alle sue ragazze, magari di partire subito con la grinta giusta già dal primo minuto? Su questo sì, ci stiamo lavorando, stiamo vedendo, stiamo cercando di riuscire a capire le motivazioni perché comunque non è semplice lavorare su queste cose perché poi è un aspetto soprattutto caratteriale. Però insomma le ragazze hanno capito che giocando in un altro modo si può ottenere dei risultati che poi attendendo troppo, come è stato con Verona, è difficile poi recuperare. E secondo lei giocare in casa è un vantaggio in questo momento, in questa fase? In questo momento sì, in questo momento è un vantaggio anche perché per me questa partita è importante in prospettiva a Brescia della settimana successiva. Quindi per noi riuscire a portare una vittoria questa settimana potrebbe darci ancora quella carica maggiore per poter poi affrontare il Brescia nella settimana successiva. Elisa Camporese, siamo alla vigilia di un'altra partita di campionato per il Tavagnacco, sabato arriverà il Cugno. Come è andata questa settimana e come siete? Cariche, desiderose di tornare in campo? Sicuramente la scorsa settimana è stata abbastanza dura e impegnativa però abbiamo raccolto buone informazioni e abbiamo lavorato bene. Infatti dalla partita di martedì credo che il Tavagnacco abbia fatto vedere un altro spirito assolutamente sabato contro Mozzanica. Abbiamo proseguito nel lavoro e direi che per sabato siamo pronti ad affrontare una partita che sicuramente avrà delle insidie. Quindi diciamo Cugno, poi messa da parte la pratica Cugno ci sarà la super sfida contro il Brescia? Anche lì dovrete tirare fuori tutto per quella partita. Io credo che per quel che riguarda noi quest'anno non dobbiamo tanto andare oltre al prossimo impegno. Quindi siamo focalizzate in questo momento per giocare al massimo e ottenere i tre punti contro il Cuneo. Che ho letto essere stato anche riempito di complimenti per la partita proprio contro il Brescia. Quindi è meglio rimanere concentrati sul sabato, poi per la questione del Brescia avremo tempo di pensare. Ok.